Inizia domani sera alle 20, Border, storia di confine, la nuova trasmissione di ETV. Una produzione curata dalla redazione giornalistica e condotta da Anna Campaniello che guiderà i telespettatori lungo il confine tra Italia e Svizzera. Un confine che unisce e divide, attraversato ogni giorno da decine di migliaia di frontalieri che vivono in Italia e lavorano in Svizzera. Un fenomeno questo, in grado di dar vita a dinamiche uniche dal punto di vista economico, sociale e culturale che verranno affrontate e discusse all'interno della trasmissione. Lo studio centrale di ETV a Como ospiterà di volta in volta i protagonisti in grado di raccontare la realtà dei due paesi di confine, sindacalisti, giornalisti, politici, rappresentanti di categoria, espressione e voce di chi vive la realtà trasfrontaliere. Spazio però anche alle storie a cavallo del confine, la cui cronaca sarà affidata a interviste e collegamenti tra i territori di Como, Varese, Sondrio, Verbano, Cusiossola e Canton Ticino. Come ormai tradizione dei programmi di informazione di ETV, i telespettatori potranno intervenire in diretta via telefono 031 33 00 655 o via WhatsApp 335 70 84 396. Border, storie di confine, è in onda a partire da domani, ogni mercoledì alle 20 su ETV. problems di warum da leva e paica mi piace, essere in onda a partire da enormi daLast rispettatori. Come ormai tradizione dei programmi di frequenta di attività codice chovote da